Ciao a tutti! Oggi video recensione e vi faccio vedere come sistemo io le sopracciglia quindi vi lascio subito alla seconda parte del video dove vi parlo appunto di questa matita della Koki e di tutte le sue caratteristiche come io ridisegno le mie sopracciglia come potete vedere effetto naturale in un modo molto semplice e basta, quindi seguite la seconda parte del video Ciao! simulando proprio i peletti e vado poi, giro leggermente la matita e comincio proprio a riempire gli spazietti e allo stesso tempo metto anche un po' in ordine le ciglia il tutto anche un po' l'attaccatura come vedete perché io ho, qui mi mancano proprio dei peletti e riesco a ridisegnare la forma delle mie sopracciglia se come nel mio caso avete leggermente esagerato basta prendere un cotton fioc se trovate quelli con la puntina è ancora meglio così andiamo a ripulire il tutto e siamo a posto e quindi prendo la parte del pennellino che si vede sì, questo qui e vado semplicemente come se sfumassi diciamo, come per gli ombretti a parte un po' a ripettinare si sfuma un po' tutta la situazione come vedete, prima sembrava un po' più marcato poi, grazie a questo pennellino che si trova alla sua estremità quindi trovo molto pratica questa matita per questo motivo mi piace questo scovolino perché appunto mi aiuta a sfumare la situazione e a dare un risultato sicuramente più naturale vado leggermente a ridefinire qui e adesso con lo stesso sistema ridisegnare la forma o mettere un po' a posto la mia situazione da questa parte ho più buchi e più spazi irregolari rispetto all'altra andrò a sfumare il tutto quindi avete visto com'è semplice con una matita di questo tipo andare a sistemare le sopracciglia quindi questo è proprio un effetto naturale le metto a posto però sono le mie vado giustamente a riempire gli spazi e il risultato mi soddisfa davvero molto vi lascerò giù nell'info box il link di questa azienda appunto la Koki e così potete andare a vedere tutti gli altri prodotti mi piace perché dà questo effetto naturale e non appesantisce lo sguardo fatemi sapere voi che cosa ne pensate io sono veramente contenta del risultato è facile da applicare questo è davvero tutto e se vi faccio vediamo al prossimo video ciao